sulle società in-house e diritti dell'impresa. Il mio compito è un po' di aprire dei lavori e di dare il benvenuto a tutti a nome della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Ringrazio innanzitutto i speakers, coloro che sono qui i relatori, che hanno accettato di venire dal Presidente Renato Rordolf a Gine Rabruzzone, Carlo Iba, Andrea Zoppini, Fabrizio Guerrera, Giuseppe Guizzi, non li presento tutti, verranno presentati meglio, ma sono persone conosciute ampiamente da un pubblico chiaramente esperto e un pubblico formato dal mondo del diritto dei giuristi e soprattutto poi voglio ringraziare la professoressa Massa e il professor Cintioli per aver organizzato questo convegno. Questo incontro promosso dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione si pone nella scia di una giornata di studio organizzata lo scorso anno nel quale si era affrontato il tema delle società pubbliche alla luce della copiosa, sempre più copiosa, legislazione in materia. E il discorso prosegue quest'anno mettendo al centro dell'attenzione quella particolare tipologia di società pubbliche che sono le società in house, società che sono partecipate, come sapete, in modo pressoché totale dalle amministrazioni, da uno o più amministrazioni e attraverso le quali le pubbliche amministrazioni provvedono quasi da sé direttamente al perseguimento degli scopi pubblici quale è una specie di manifestazione del loro potere di auto-organizzazione. Ma queste giornate di studio, sia la giornata di studio dell'anno scorso sia quella di oggi, nascono da un programma della scuola nazionale ci tengo a dirlo qui, diretto ad ampliare i programmi formativi della scuola e i programmi di ricerca della scuola in direzione proprio dei problemi di diritto societario e di gestione delle società pubbliche, partecipate o in house. e questo per rispondere alle necessità crescenti della pubblica amministrazione di acquisire proprio le competenze nella gestione societaria. I dirigenti della pubblica amministrazione, che sono i nostri clienti, sono infatti oggi chiamati ad entrare, ad esempio, nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e le competenze, non solo di diritto societario, ma anche le competenze riguardanti il controllo gestionale, non sempre sono nel DNA delle pubbliche amministrazioni. Più in generale le pubbliche amministrazioni, sia centrali che soprattutto locali, devono porsi il problema di gestire e forse di limitare, a seconda delle scelte anche politiche, il perimetro del ricorso alle società pubbliche, partecipate o totalmente controllate o delle società in house. Appare il quale normativo di riferimento che è nuovamente oggetto di interventi parziali e soprattutto l'evoluzione giurisprudenziale pongono vari problemi e soprattutto sulla tenuta del modello privatistico che dovrebbe caratterizzare questa società al cospetto di una svolta interpretativa che a volte è in senso marcatamente pubblicistico, ma questo sarà un tema di discussione in cui io non mi avventuro perché non sono un giurista, ma quello voglio dire è che in effetti mi sembra che sia sempre più difficile conciliare le conseguenze imposte sul piano applicativo da una prospettiva che esalta le esigenze peculiari del socio pubblico con il modello privatistico. Ora, l'impressione è che la pubblica amministrazione in generale, dopo essersi intrappolata, scusatemi il termine, nelle maglie sempre più fitte del diritto amministrativo, abbia tentato a un certo punto di crearsi uno spazio di azione attraverso le società pubbliche per operare in base al diritto privato, ma che essa faccia fatica per tradizione e anche per formazione, io credo, a operare in quest'ambito e forse non abbia conseguito i successi gestionali auspicati. in questo tentativo. Il risultato è che forse si cerca di riportare sotto controllo il diritto amministrativo, in qualche modo, sotto controllo dell'amministrazione, società create per evitarlo e che questo non crei effetti gestionali neanche positivi. C'è l'impressione, in sostanza, almeno dal pubblico, che ci si trovi di fronte a una specie di ibrido, un ricocervo che sfugge di mano. Ma forse si tratta di un generale non risolto contrasto tra un desiderio che pervade la pubblica amministrazione, ma anche parte della società italiana e parte della politica, di muoversi verso un'amministrazione e una società basata prevalentemente e di più sul diritto privato. Una società e un'economia più di tipo anglosassone. E la resistenza, invece, forte di un'amministrazione e una società in generale, in cui, al contrario, il diritto pubblico non restringe il suo perimetro di azione, ma anzi tende ad essere sempre più pervasivo, e parlo di vari ambiti, dal diritto del lavoro ad altri settori. Un conflitto di fondo che si svolge oggi, io credo, a vari livelli. Naturalmente la scuola non ha compiti di interventi di policy né di indirizzo rispetto alla scelta tra i due modelli, ma ha il compito solo di dare gli strumenti alla pubblica amministrazione di convivere, perlomeno, con il sistema creato dal legislatore e quindi di cercare di rafforzare le competenze necessarie per operare con piena cognizione nei mercati e quindi per operare con piena cognizione dei mercati, mercati in cui operano le società pubbliche e con piena cognizione dei principi gestionali, anche privatistici e soprattutto privatistici che dovrebbero contraddistinguere in realtà. Non si deve, infatti, io credo, trascurare che spesso le scelte dei modelli gestionali di pubblico privato o del bilanciamento tra le due approcci approcci della maggiore o minore regolamentazione dei mercati scelte che sono scelte politiche del legislatore ma che non sono scelte del tutto liberi di fatto perché se poi non vi sono le capacità della pubblica amministrazione di gestire i diversi modelli e i modelli alternativi altrimenti si fanno delle scelte in un senso a cui non corrispondono le capacità necessarie a portare avanti queste scelte e allora o si torna indietro o qualcosa non funziona. È lì che la scuola ha deciso di in qualche modo dare il suo contributo. Tuttavia la scuola ha come suo mandato statutario anche il compito di promuovere analisi ricerca e dibattito e questo è il fine lo scopo di giornali di studio come queste. quindi io vi auguro buon lavoro buon lavoro a tutti i convenuti rinnovo il benvenuto a tutti i presenti a coloro che non trovano il tempo di venire qui evidentemente dal forte pubblico significa che il tema è molto sentito e questo benvenuto è a nome di tutta la scuola nazionale dell'amministrazione. Grazie e io adesso darei la parola al consigliere Garofoli. grazie presidente io pensavo di porgere soltanto gli auguri di saluti e gli auguri di un buon lavoro e di un proficuo confronto ma siccome non ce la faccio a non dire due parole su un tema che da sempre mi appassiona e cioè quello dell'inaus ma non soltanto se avessi a disposizione davvero pochissimi minuti mi trovo a come dire in estrema sintesi a semmai apporre alcuni temi alcune questioni ora innanzitutto l'inaus diceva il presidente Tria e il tema dell'iniziativa odierna se posso l'inaus a mio avviso è il fenomeno giuridico e non soltanto direi anche economico dell'inaus e si inserisce in una come dire o è un tassello di un fenomeno più esteso che direi da diversi anni almeno da due decenni sta attraversando il diritto amministrativo nazionale e sta rivoluzionando il diritto amministrativo nazionale e modificandone come dire il volto direi le nozioni di fondo e gli istituti portanti del diritto amministrativo sta cambiando è cambiato per effetto di alcune trasformazioni sta è cambiato per così dire dicevo le nozioni fondamentali del diritto amministrativo nazionale la nozione di pubblica amministrazione la nozione conseguentemente di atto amministrativo con tutte le implicazioni naturalmente che questa evoluzione di queste nozioni fondamentali rega con sé in punto di giurisdizione di ostensibilità degli atti ma non soltanto questo ora questa evoluzione mi soffermerei due minuti su questo questa evoluzione è il risultato di una serie di fattori taluni sovranazionali e il riferimento è alla penetrazione nell'ordinamento nazionale di nozioni di provenienza in particolare europea di provenienza normativa europea penso all'organismo ma di provenienza anche pretoria europea penso per l'appunto all'inaus che non è un istituto di derivazione diciamo di diritto positivo ma di derivazione giurisprudenziale almeno di derivazione europea giurisprudenziale salvo poi ad essere stato codificato anche da noi in Italia ecco questa evoluzione direi della nozione di pubblica amministrazione è un'evoluzione ormai profonda è un'evoluzione connotata per così dire dallo sganciamento della nozione di pubblica amministrazione da un approccio di tipo formale e viceversa caratterizzata da una adesione ormai ad un approccio di tipo sostanziale a tratti teleologico sta cambiando la nozione di pubblica amministrazione e questo cambiamento della nozione di pubblica amministrazione poi vengo davvero un minuto all'inaus è una come dire cambiamento dovuto a fattori interni dicevo e a fattori sovranazionali ricordo soltanto il dibattito decennale non soltanto dottrinale ma anche giurisprudenziale quanto al tema per così dire sviluppatosi all'interno dei confini nazionali al dibattito relativo all'ammissibilità da noi in Italia indisparte le nozioni europee il dibattito relativo all'ammissibilità di enti pubblici aventi veste societaria questo tema dei rapporti tra diritto privato e diritto amministrativo dei rapporti tra società e ente pubblico e anche dei vincoli pubblicistici a soggetti aventi veste societaria non è un dibattito diciamo di oggi è un dibattito che in Italia si è sempre svolto Banca d'Italia e poi è un dibattito che si è svolto attorno alla qualificazione dei soggetti rivenienti dalla privatizzazione formale degli anni 90 prima che a questa si accompagnasse la privatizzazione sostanziale quindi la dismissione è un dibattito che più di recente ha involto post-SPA ferrovia SPA GSE SPA RAI SPA da ultimo quindi il tema nel quale si inscrive il profilo dell'in-house è un tema più profondo quello appunto dei rapporti tra veste societaria natura giuridica pubblica e regime pubblicistico contaminazione pubblicistica delle società in qualche modo capitalizzate appunto dal soggetto pubblico è un tema poi che si è sviluppato successivamente per effetto della come dire penetrazione di nozioni alle quali non eravamo abituati di nozioni europee in particolare quella dell'organismo di diritto pubblico che nasce per una certa esigenza poi quella dell'in-house ora se questa è la prima è l'evoluzione della nozione di PIA naturalmente sono soltanto cenni se questa è l'evoluzione della nozione di PIA ecco importante osservare che a questa evoluzione della nozione di PIA o meglio al tema dei rapporti tra società e nozione di pubblica amministrazione si è accompagnato poi da noi specificamente in Italia talvolta per vincolo europeo talvolta per scelta autonoma del legislatore nazionale una tendenza ne parla il professor Cintioli in scritti recenti una tendenza del legislatore a esasperare talvolta l'estensione a queste società di un regime pubblicistico di un regime tutto tipico appunto dell'amministrazione pubblica e si tratta di un'estensione dicevo talvolta imposta dai vincoli europei e il riferimento è all'estensione della disciplina procedimentale imposta alle società perché qualificate e qualificabili come organismi di diritto pubblico si tratta di un'estensione talvolta decisa dal legislatore nazionale in autonomia penso al tema della ostensibilità degli atti di queste società in quanto ascrivibili ecco alla stregua di un approccio sostanzialistico alla nozione di pubblica amministrazione si tratta di un'estensione imposta o autoimposta dallo stesso legislatore nazionale o dalla giurisprudenza nazionale con per esempio la previsione della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti e sul contenzioso involgente gli atti con la previsione come confermata oggi dalle sezioni unite di novembre e mi diceva Fabio anche più di recente ecco della giurisdizione del giudice contabile per sul tema della responsabilità per danno erariale si tratta di un'estensione e questo è ancora più importante direi di un'estensione che il legislatore nazionale sulla frase di una propria scelta opinabile o meno non so dirlo venendo alle indicazioni date in apertura da Giovanni Tria l'estensione di un regime tipicamente pubblicistico perché come è noto a queste società è stato esteso dal famoso articolo 18 della Tremonti il DL del 2008 l'obbligo di effettuare procedure come dire selettive non concorsuali in senso stretto per l'assunzione di dipendenti ma soprattutto è stato ecco esteso a queste società una serie di regimi sono stati estesi di regimi vincolistici volti ad imporre alle società pubbliche e soprattutto a talune di queste società pubbliche una serie di vincoli propri dell'amministrazione pubblica gli ultimi sono quelli del DL 66 il DL bonus 80 euro che non è soltanto bonus 80 ma è anche spending alle società ha imposto riduzioni anche consistenti di costi fino al 3,5% e sono state estesi a talune società anche i vincoli del patto del patto di stabilità quindi c'è tutto un movimento di contaminazione pubblicistica del regime delle società pubbliche al punto che qualcuno ha parlato di imprese dimezzate o di società quasi amministrazioni ora questo movimento è più spiccato ancora più spiccato per talune specialità societarie per talune tipologie societarie ed è più spiccato soprattutto per le società in house ora diceva Giovanni Tria che per queste società in house c'è come dire questa tensione fra diritto amministrativo e diritto societario una come dire tendenza iniziale a fuggire dal diritto amministrativo poi come dire non confermata dai fatti e dalle evoluzioni ordinamentali non so quanto possa essere d'accordo con questa affermazione perché le società in house in realtà non nascono come soggetti che fuggono dall'amministrazione le società in house sono una tipologia societaria che nasce come come dire nasce per una ragione diversa nasce per nella sentenza tecal e a seguire nasce non per evitare che l'amministrazione si sottragga al diritto amministrativo non era questa la razio dell'inaus la razio dell'inaus è quella di consentire un affidamento senza contratto e quindi senza procedura concorsuale questo è tecal ecco un affidamento senza contratto e quindi a monte senza gara allorché della contratto difettino ecco anzi difetti il presupposto essenziale cioè l'alterità tra i paciscenti la diversità soggettiva tra i paciscenti intanto si può stipulare un contratto in quanto ci siano due soggetti distinti ci sia una relazione intersoggettiva non interorganica come si è sempre detto da anni in quanto ci siano soggetti giuridicamente differenti quando i soggetti non sono diversi perché fanno parte della stessa struttura amministrativa ecco non c'è alterità non c'è relazione intersoggettiva c'è una relazione solo tra organi interorganica e quindi l'amministrazione può affidare non il contratto ma la prestazione al soggetto in house perché quel soggetto in house non è un soggetto diverso dall'amministrazione ma è l'amministrazione in un suo prolungamento organizzativo in una sua proiezione organizzativa così nasce l'in house queste sono le ragioni dell'in house ora da sempre si è detto però che l'in house proprio perché è un prolungamento organizzativo dell'amministrazione non è un soggetto diverso dall'amministrazione affidante è a sua volta amministrazione non c'è dubbio su questo l'in house è la pubblica amministrazione è un pezzo dell'amministrazione affidante è un soggetto che fa parte dell'amministrazione affidante e proprio attorno a questo del resto a questo concetto di non alterità di non diversità soggettiva sono stati costruiti i requisiti strutturali dell'in house da te call in poi e cioè il requisito del controllo analogo poi come dire irrobustito dalla giurisprudenza comunitaria soprattutto nelle due famose decisioni del 2005 con le quali si è detto che il controllo analogo presuppone la partecipazione non maggioritaria ma totalitaria pena l'inammissibilità dell'affidamento in house e il requisito poi funzionale non strutturale ecco consistente nella necessità che il soggetto in house espleti la sua attività non sul mercato ma in assoluta prevalenza in favore del soggetto affidante ora questo soggetto in house quindi nato come amministrazione pubblica il legislatore lo sottopone ancora più che altre società ancora più che di quanto avviene per altre società pubbliche in senso lato ecco lo sottopone lo ha sottoposto negli ultimi tempi ad un regime pubblicistico con un fenomeno di contaminazione pubblicistica intenso ad un regime pubblicistico molto robusto quasi ad un regime pubblicistico del tutto diverso del tutto analogo a quello cui sono assoggettate le amministrazioni pubbliche al punto da essere assoggettato ai vincoli del patto di stabilità al punto da essere assoggettato ad una serie di discipline tipicamente pubblicistiche costituisce questo una anomalia del legislatore io non lo so dire però non la vedo così in contrasto con le origini dell'istituto non vedo questa sottoposizione dell'inaus così come dire in contraddizione con l'insè dell'istituto cioè un istituto un soggetto quello in aus che prende commesse senza gara perché non è diverso dall'amministrazione affidante è una proiezione dell'amministrazione affidante è un organo dell'amministrazione affidante tant'è che l'affidante deve esercitare sull'inaus un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture organizzative sui propri uffici questo è il concetto del controllo analogo non c'è dubbio però questo è il tema del convegno non c'è dubbio però che questa evoluzione questa contaminazione pubblicistica sempre più intensa ponga qualche problema e qualche tensione con il regime privatistico delle società e però su questo mi fermo non c'è dubbio cioè che occorra interrogarsi sulla compatibilità tra un regime pubblicistico così robusto così marcatamente pubblicistico e alcune esigenze cui risponde la disciplina cui privatistica alla quale sono assoggettate le società tra le quali non c'è dubbio le esigenze della tutela dei terzi della tutela dei creditori e le esigenze connesse alla previsione di procedure concorsuali di procedure fallimentari cui quelle società sono per così dire le altre società quelle del regime privatistico sono per così dire assoggettate quindi non c'è dubbio che questa intensa pubblicizzazione delle società ponga il problema della compatibilità di quel regime con il regime invece richiamato dalla veste societaria che questi soggetti in house conservano anno ecco mi fermerei su con questo grazie presidente grazie Roberto Garofoli di questa apertura e lezione immediata ovviamente io non volevo entrare negli aspetti giuridici che non di cui sono di tutti incompetenti ho richiamato alcune ciocchiappare diciamo al non giurista di quello che sta accadendo in Italia e io inviterei innanzitutto la professoressa Fabiana Massa a prendere la direzione in qualche modo il coordinamento di questa giornata di studio e poi lei subito la parola al anzi è lei che dovrà dare la parola al primo relatore altrimenti mi contredico immediatamente per interposta persona allora grazie presidente grazie a Roberto Garofoli sostituisco indegnamente come sempre il presidente e do la parola al presidente Rordolf per l'introduzione grazie presidente Tria grazie professoressa Massa grazie innanzitutto di avermi invitato a partecipare a questa giornata questa mattinata di incontro e di studi che mi aspetto estremamente interessante anche in termini vorrei dire egoistici perché come intendo dire poi nella parte finale dell'introduzione che cercherò di far breve a parte le questioni sulle quali la sezione unita si sono già recentemente pronunziate con la sentenza del 2013 sul riparto di giurisdizione in materia di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in house e altre successive a parte dicevo questo vi sono non pochi problemi che restano aperti e sui quali la giurisprudenza in generale e anche le sezioni unite in particolare si dovranno a breve pronunciare dono del mio particolare interesse ad ascoltare le cose che verranno dette in questo tavolo la mia funzione per il resto come dice il programma sarà puramente introduttiva quindi mi limiterei a una breve ricapitolazione in parte del resto già molto brillantemente svolta dall'intervento del Consigliere Garofoli che alleggerisce per mia fortuna il mio compito una breve introduzione che inevitabilmente finirà anche col dire cose già note all'auditorio e come già accennavo qualche indicazione sui problemi che restano aperti questa introduzione mi si lascia premettere una considerazione tempi duri per i giuristi vorrei dire i giuristi da sempre hanno il bisogno o almeno compiono lo sforzo di incasellare di inquadrare la realtà con la quale si confrontano in schemi in un reticolo di norme fatto appunto di fatti specie principi criteri ordinanti in base ai quali danno cercano di dare un ordine a questa realtà un ordine appunto corrispondente a determinate regole o principi giuridici questa esigenza di inquadramento sistematico dunque postula che si costruiscano delle categorie giuridiche e queste categorie giuridiche abbiano dei confini che i giuristi nei loro sogni immaginano vorrebbero fossero sempre più nitide sempre più nette sempre più chiare e qui è invece la difficoltà qui nascono i tempi duri odierni per i giuristi perché le categorie giuridiche forse non solo quelle giuridiche ma di queste oggi ci occupiamo sono invece sempre meno nitide i loro confini sono sempre meno chiari mi piace in questo caso ricordare uno scritto molto risalente di Salvatore Pugliatti che nel 1943 quindi pensate che tempi erano quelli nei quali Pugliatti faceva queste osservazioni sosteneva che ogni crisi del campo del diritto riconduce lo studioso alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e diceva quanto più è acuta la crisi i più inclinano a negare la distinzione cioè si fermano alla superficie e dimenticano che l'esigenza razionale del diritto come ordinamento è nella dinamica dei due termini pubblico e privato ecco il sogno del giurista la distinzione nitida tra pubblico e privato e però lo stesso Pugliatti una ventina di anni dopo nella voce in una voce per l'enciclopedia del diritto risalente al 1964 dopo aver richiamato questa sua precedente affermazione forse un po' più rassegnato alla realtà delle cose e alla disillusione del sogno del giurista riconosceva l'esistenza direi ovvia di zone di confine di rapporti aventi natura spuria ed ambigua tra il pubblico e il privato e sottolineava come le oscillazioni di significato nella distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e l'alterna tendenza mi ricorda un po' le considerazioni del Presidente Tria sulle varianti che si sono avute a questo riguardo negli ultimi anni l'alterna tendenza a privilegiare ora l'una ora l'altro ora il diritto pubblico ora il privato dipendono largamente dal mutare dello spirito dei tempi e sono legati ai mutamenti storici dunque dobbiamo accettare che questo confine tende a spostarsi e innegabilmente oggi tende ad essere particolarmente incerto le sue linee di demarcazione sono quanto mai sfumate questo è un fenomeno di carattere più generale evidentemente è un fenomeno che nasce da quelle considerazioni che già molto puntualmente richiamava prima il Consigliere Garofali circa l'evolversi della concezione stessa della pubblica amministrazione del suo modo di agire vorrei dire dal fatto che la stessa concezione della pubblica amministrazione come soggetto dotato di poteri sovraordinati e di poteri di imperio sia andata progressivamente sostituendo con una concezione piuttosto funzionale di questi poteri destinati al servizio dell'interesse generale ma che nulla vieta possa essere soddisfatto anche col ricorso a strumenti di stampo di stampo privatistico e dall'altro versante sul versante del diritto privato ed in particolare per quello che oggi qua interessa il nostro discorso sul versante del diritto delle società la rigida categorizzazione tipologica che tradizionalmente connotava in qualche misura ancora naturalmente connota il diritto societario in campo privatistico è andata anch'essa non poco allentandosi la possibilità di configurare all'interno di una società interessi anche eterogenei e non sempre necessariamente di carattere prettamente commerciale mercantile hanno fatto dello strumento societario qualcosa che forse in questo mio dire c'è un'esagerazione ve lo perdonerete ma lo indico come linea di tendenza non come approdo qualcosa che fa dello strumento societario un modello tendenzialmente neutro all'interno del quale possono calarsi esigenze finalità scopi tendenze diverse e quindi più facilmente anche finalità funzionali alla realizzazione di quell'interesse pubblico che la pubblica amministrazione utilizzando lo strumento societario per sua natura privatistico mira a conseguire donde appunto quella minor nettezza di confini tra l'agire pubblico e privato che si realizza particolarmente nel campo del diritto societario attraverso lo strumento delle cosiddette società pubbliche espressione peraltro molto molto vaga perché sotto questa definizione di società pubbliche si manifestano in verità realtà assai diversificate questa commissione di interessi e di situazioni che giustifica quella tensione della quale si è parlato tra la natura giuridica dello strumento e le esigenze giuridiche ma di altro genere delle finalità alle quali lo strumento viene piegato questo problema si manifesta come dicevo sotto molti profili all'occhio del giurista e sul tavolo del giudice si è manifestato in modo particolarmente vivace in questi ultimi anni nel campo del riparto della giurisdizione ed in particolare quanto all'attribuzione di competenza giurisdizionale nell'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di queste società pubbliche continuo ad usare l'espressione per il momento in senso ampio contrapponendosi l'ovvio riferimento alla normativa del codice civile che del resto contempla essa stessa la possibilità che le società di diritto privato disciplinate dallo stesso codice civile siano partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici senza per questo salvo alcune norme specifiche comportare un diverso regime giuridico né per le società né per i doveri e gli obblighi dei rispettivi amministratori ed anzi vale la pena di richiamarlo sempre a questo proposito nella relazione al codice del 1942 espressamente veniva detto è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici quindi si assoggetta lo Stato alla legge delle società per azioni ma è stato già anche ricordato e sarò molto breve a questo riguardo la stagione delle privatizzazioni degli anni 90 ha largamente mutato questo scenario vi era quella tendenza probabilmente sottesa l'idea che il mercato e le intrinseche dinamiche del mercato potessero fungere da regolatore del funzionamento anche dei servizi pubblici meglio di quanto non lo avessero fino ad allora fatto gli strumenti tipici del diritto amministrativo e che quindi anche l'operatività di enti che quei servizi sono destinati a erogare dovessero in qualche misura se posso dire così mimare il mercato se non addirittura agire in un vero e proprio regime di libero mercato dove un panorama del diritto societario assai più variegato frutto di intreccio tra iniziativa statutaria e una miriade di disposizioni di leggi speciali che come pure già stato detto si sono andate affostellando in modo non sempre debbo dire sistematico e ordinato a questo riguardo reintroducendo elementi tipici della struttura e del diritto pubblico nelle vicende proprie nella struttura e nella disciplina propria di queste società pur formalmente di diritto privato e contribuendo quindi a quella commistione e a quella attenzione tra i due poli dei quali si è detto e dei quali stiamo parlando questo contesto dovendo risolvere il problema di riparto di giuridizione cui prima accennavo come tutti sappiamo le sezioni unite della Cassazione dopo alcune pronunzie precedenti che avevano lasciato aperti dei margini di incertezza maggiori con non una per la verità ma una serie di sentenze del 2009 la più nota e rilevanti delle quali ha un numero che ora da qualche parte ho annotato ma ecco è la numero 26.806 del 2009 hanno affermato la giuridizione del giudice ordinario hanno negato la giuridizione del giudice contabile nelle azioni di responsabilità per danni alla società cagionati dal malagestio degli amministratori o da eventuali vizi di controllo nel caso della responsabilità degli organi di controllo in generale con riguardo alle società partecipate da enti pubblici con una sola eccezione o forse un paio di eccezioni per società a statuto a fatto speciale di origine legale in particolare come sappiamo per la RAI questa affermazione si basa questo principio di diritto che regge questa conclusione si basa su argomentazioni a voi tutti ben note sulle quali quindi farò un cenno solo brevissimo la distinzione ineliminabile tra il patrimonio e la personalità giuridica del socio ancorché pubblico e della società non consente di affermare che il danno arrecato al patrimonio della società sia perciò stesso un danno arrecato al patrimonio del socio del socio ma mentre il socio è pubblico e dunque il suo patrimonio è pubblico ed il danno arrecato al patrimonio del socio pubblico è danno erariale il patrimonio della società arrecato al patrimonio privato della società non può configurarsi come danno erariale per la stessa distinzione che non può essere superata tra l'uno e l'altro e l'altra insieme patrimoniale né del resto la società gli amministratori dico meglio della società in quanto tali si possono considerare legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione il loro rapporto di servizio se così lo si vuole definire rapporto funzionale è con la società che resta un ente privato e dunque difettano le condizioni per l'assoggettamento di questi soggetti alla disciplina della responsabilità della responsabilità contabile della responsabilità per danno erariale tanto più che questa disciplina mal si coniugherebbe con la disciplina generale delle azioni di responsabilità previste dal codice civile alle quali non potrebbero comunque gli amministratori di questa società sottrarsi volta che accanto ai soci pubblici vi sono anche soci privati i cui interessi non potrebbero evidentemente risultare tutelati altrimenti che attraverso l'esercizio delle azioni di responsabilità previste dal codice civile la possibilità della azione erariale della procura contabile resta affermata quando il danno recato dall'amministratore si riferisca non al patrimonio della società ma sia un danno direttamente riferibile al patrimonio del socio e qui è stata invocata la nota distinzione presente nel codice civile e nei principi generali del diritto societario tra il danno alla società che solo indirettamente si ripercuote sul patrimonio del socio e nel quale la società ma non il socio possono dunque pretendere il risarcimento e danno diretto al patrimonio del socio che prescinde che non implica un danno al patrimonio della società e quest'ultimo ove il socio sia un socio pubblico effettivamente è riconducibile alla azione di responsabilità davanti alla corte dei conti la quale azione di responsabilità del resto hanno aggiunto le sezioni unite in quell'occasione può esercitarsi non nei confronti degli amministratori della società responsabili degli atti di malagestio che come abbiamo detto non sono in rapporto diretto con il pubblico ma sono amministratori di una società pur sempre privata bensì nei confronti dello stesso socio pubblico o di chi il socio pubblico in persona nelle vicende societarie per non avere esercitato ove ciò sia effettivamente d'ora imputabile per non aver esercitato quei poteri che all'interno di una società il socio anche pubblico ha per controllare per stimolare per reagire all'eventuale malagestio degli amministratori questo in estrema sintesi il quadro nascente da quelle sentenze del 2009 rispetto alle quali la sentenza le sentenze del 2013 e seguenti hanno introdotto un elemento di novità non hanno inteso quelle sentenze non ha inteso in particolare la sentenza del 2013 di cui mi è capitata la vettura di essere personalmente estensore modificare quell'orientamento o smentirlo anzi esso viene espressamente richiamato e ribadito ha inteso soltanto introdurre un elemento ulteriore un elemento ulteriore riferito specificamente alla figura delle società in house delle quali già prima si è parlato si è già detto e non sto dunque a ripeterlo come le società in house siano una figura di origine essenzialmente pretoria come esse nascano in particolare dalla giurisprudenza comunitaria la sentenza tecale e altre come peraltro questa figura sia stata poi ripresa anche da non poche pronunzie della giurisprudenza nazionale in particolare della giurisprudenza amministrativa oltre che di quella contabile dalla stessa corte costituzionale come tra un momento tirò e in un ultimo anche dalla corte dei conti evidentemente e come lo stesso legislatore per esempio dall'articolo 113 del testo unico sugli enti locali come modificato nel 2003 abbia sostanzialmente recepito questa figura nelle sue tre caratteristiche salienti dell'essere queste società totalitariamente partecipate da un ente pubblico o eventualmente da più enti pubblici ma comunque solo enti pubblici nell'essere la loro attività prevalentemente svolta nell'interesse e in favore degli enti pubblici partecipanti quindi un'attività sostanzialmente fuori del mercato nell'essere gli amministratori di queste società assoggettati ad un controllo analogo a quello al quale sono assoggettati i dipendenti della pubblica amministrazione controllo da parte della pubblica amministrazione partecipante queste caratteristiche hanno condotto quello che ormai si usa definire che anch'io definirò il diritto vivente cioè il modo in cui un diritto che ancora per la verità dal punto di vista delle norme positive è estremamente lacunoso variegato tutt'altro che chiaro il diritto vivente quello cioè che nasce dalla interpretazione che in concreto ne viene fatta dalla giurisprudenza o dalle giurisprudenze perché qui bisogna parlare di giurisprudenze in qualche modo al plurale hanno condotto dicevo il diritto vivente a dare una sostanziale configurazione stabile sulla base di queste tre caratteristiche a queste società cosiddette in house e soprattutto a trarne delle conseguenze che sono poi quelle alle quali già alludeva poc'anzi il consigliere Garofali e cioè che penso ad alcune sentenze non solo del consiglio di stato ripetute tra il 2004 e il 2011 ma soprattutto alla sentenza 46 del 2013 della corte costituzionale quella che la società in house sarebbe in realtà solo una longa manus dell'amministrazione sicché l'affidamento pubblico mediante in house contract di una funzione pubblica alle società in house non configurerebbe nella sostanza un rapporto contrattuale intersoggettivo tra giudicante ed affidatario e il consiglio di stato nella donanza plenaria numero 1 del 2008 ha detto in modo esplicito l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa in sostanza per società in house alla società in house finisce con l'essere negato il carattere di alterità rispetto alla pubblica amministrazione partecipante questi dati non sono stati come dire elaborati dalle sezioni unite della Cassazione questi dati sono stati elaborati dal diritto vivente precedente a quell'intervento delle sezioni unite le quali a torto ha ragione la sentenza delle sezioni unite è stata criticata con argomenti sui quali non sta a me adesso intervenire ma miro soltanto a ricostruire ciò che è accaduto le quali le sezioni unite hanno preso atto di questo diritto vivente hanno preso atto di un diritto vivente del quale non sarebbe stato così facile prescindere perché esso nasceva come ripeto dalle concordi pronunzie della corte costituzionale del consiglio di stato anche nella sua più autorevole espressione cioè la duranza plenaria oltre che della stessa corte dei conti che appunto alle società in house nega la alterità rispetto alle pubbliche amministrazioni partecipanti se la società in house non è altro rispetto alla pubblica amministrazione partecipanti allora quel ragionamento che prima richiamavo circa la impossibilità di affermare che il patrimonio della società è il patrimonio pubblico perché non appartiene all'ente pubblico partecipante ma alla società che è distinta dall'ente pubblico partecipante quel ragionamento non può più essere replicato dove proprio questa distinzione l'alterità tra ente pubblico partecipante e società partecipata venga messa in discussione e questa è la sostanza in fondo della pronuncia delle sezioni unite che ha portato alla conclusione dell'esistenza della giurisdizione della possibilità di affermare la giurisdizione del giudice contabile nelle azioni di responsabilità riguardanti le sole società in house si è sforzata si sono sforzate le sezioni unite in quella pronuncia nelle altre successive di segnare i confini però della società in house e come dico rimangono in fondo abbastanza vaghi in modo particolarmente rigoroso se volete chiarendo in modo il più possibile rigoroso appunto che la società è in house quando la partecipazione totalitaria è assolutamente totalitaria quando non c'è nessun socio pubblico non solo in atto non solo nel momento in cui la società opera ma statutariamente una società è in house e quindi ricade in questa particolare tipologia che ormai viene costruita di società in house soltanto se il suo statuto configura la impossibilità ora e in futuro di ammettere partecipazioni diverse da quelle pubbliche e ugualmente il requisito della sua attività prevalente in favore delle pubbliche amministrazioni e il requisito del controllo analogo debbono essere statutariamente enunciati questo anche per garantire quel minimo forse non del tutto sufficiente ma almeno quel minimo di pubblicità verso i terzi che consenta a chiunque di individuare attraverso lo statuto reso pubblico del registro delle imprese l'esistenza di tali requisiti ed inoltre con particolare riferimento al terzo dei requisiti che dicevo quello cioè del controllo analogo che da un certo punto di vista appare almeno inizialmente a prima vista il più vago nella sua configurazione la sezione Unite hanno voluto sottolineare che questo controllo analogo è tale e quindi consente di ravvisare i requisiti per la qualificazione della società come in house dovendo questi tre requisiti sussistere tutti e tre ben inteso il controllo analogo dicevo è tale quando effettivamente esso implica un potere gerarchico del controllante e cioè della pubblica amministrazione socia nei confronti dell'amministratore da essa pubblica amministrazione controllato di modo che l'amministratore è vincolato alle indicazioni alle prescrizioni del socio pubblico e questo in fondo l'elemento più di ogni altro decisivo almeno ai fini del riparto di giurisdizione perché se così è se l'amministratore della società in house esegue gli ordini della pubblica amministrazione allora davvero la sua posizione non si distingue non si può ragionevolmente distinguere da quella di un pubblico dipendente un pubblico dipendente di un ramo dell'amministrazione che risponde davanti alla corte dei conti per la violazione dei doveri a lui incombenti e per il quale un'analoga responsabilità non potrebbe non ammettersi dove negli stessi termini di subordinazione egli si trovasse pur avendo la veste formale di amministratore di una società questi ripeto i punti salienti di quella impostazione giurisprudenziale criticata criticabile naturalmente quanto si vuole che lo dico velocemente nasce anche dalla consapevolezza che la giurisprudenza non può non avere al di là della come dire della nettezza teorica dei concetti non può non avere delle esigenze pratiche che sono state ampiamente manifestate in molte sedi e da molte parti soprattutto da parte della stessa corte dei conti anche in relazioni ufficiali di non sottrarre del tutto al controllo della corte dei conti medesima questa ampia fascia di situazioni nell'ambito delle quali le società in house appunto non gran parte delle attività amministrative si svolge e anche gran parte degli sprechi del denaro pubblico si manifestano le sezioni unite della Cassazione hanno avuto hanno fatto attenzione a precisare che questa loro affermazione anche se naturalmente partendo dalla impostazione generale che un momento fa richiamavo che appunto suggerisce la non più che suggerire prende atto di un diritto vivente che nega l'alterità tra società in house e pubblica amministrazione partecipante pur consapevole dicevo che questa affermazione in via di principio non può non avere delle ricadute sistematiche che vanno ben al di là del solo problema della giurisdizione ha tuttavia tenuto le sezioni unite in quella sentenza a sottolineare che questa affermazione da esse fatta era fatta ai fini del riparto di giurisdizione lasciando come dire aperta volutamente aperta la discussione sulla possibilità di trarre analoghe conseguenze anche in altri campi diversi da quelli del riparto di giurisdizione conseguenze cioè per le quali la adozione ad opera della pubblica amministrazione di questo particolare suo modello organizzativo perché di questo in fondo si tratta della società in house per lo svolgimento di pubblici servizi possa l'avere adottato questo particolare modello organizzativo tuttavia comportare l'applicazione di una serie di norme tipiche di quel modello più non della sostanza amministrativa della funzione in campi diversi ripeto da quelli del riparto della giurisdizione se in materia di riparto di giurisdizione non si sarebbe potuto trattare diversamente l'amministratore della società in house da un qualsiasi pubblico dipendente in altri campi la scelta del modello organizzativo società ancorché in house può ancora ipoteticamente lasciare spazio alla utilizzazione di normative di tipo privatistico e non di tipo pubblicistico e qui si apre quello spazio ai problemi aperti dei quali un momento fa dicevo e ai quali naturalmente anche perché il tempo che ho preso è fin troppo lungo mi limito ad accennare velocissimamente li metto sul tappeto della discussione soltanto e naturalmente senza nemmeno la pretesa di esaurirli perché ce ne sono sicuramente anche molti di più di quanto io stesso in questo momento non riesco ad individuarne individuo quelli che sono già concretamente sul tavolo uno non riguarda propriamente le società in house riguarda in genere le società pubbliche ma è tema sul quale le sezioni unite dovrebbero emettere un provvedimento nei prossimi mesi ed è quello ancora una volta qui del riparto di giuridizione ma riguardante il problema della della revoca degli amministratori e sindaci di società pubbliche voi sapete che questo anche per codice civile naturalmente gli amministratori lo statuto delle società possono partecipare a enti pubblici possono prevedere la nomina di amministratori o sindaci direttamente da parte dell'ente pubblico partecipante la revoca di un amministratore nominato da un ente pubblico ad opera del medesimo ente pubblico potrebbe essere messa in discussione potrebbe essere ritenuta illegittima quale strumento quale strumento giurisdizionale si offre all'amministratore per reagire alla illegittimità della sua revoca se si ammette che quella essendo un atto amministrativo la revoca della carica di amministratore debba essere impugnata davanti al giudice amministrativo ciò comporterà oltre all'aspetto processuale anche una serie di conseguenze quella in particolare che l'atto amministrativo potendo essere annullato o ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo l'amministratore malamente revocato otterrà una tutela di tipo reale nel senso che l'annullamento della sua revoca implicherà che egli resti in carica o recuperi la sua carica se volete o invece si ritenga come per la verità una sentenza del 2005 delle sezioni unite avevano ritenuto ma la questione ripeto tornerà all'esame delle stesse sezioni unite o invece si ritenga che il carattere tuttavia societario del rapporto che si va a instaurare tra l'amministratore e la società ancorché mediato dalla nomina pubblica e dalla possibilità di interruzione per effetto di una revoca pubblica implichi tuttavia la giurisdizione del giudice ordinario sarà davanti al giudice ordinario che l'amministratore pubblico revocato potrà reagire all'eventuale illegittimità della sua revoca ma secondo le regole tipiche della revoca degli amministratori di società per azioni non potrà pretendere la reintegra nella carica ma soltanto il risarcimento del danno per difetto di giusta causa di revoca il tipo di tutela dunque è diverso non è solo un problema perciò di diverso riparto di giurisdizione ma è anche un problema di applicazione di un set di regole o di un altro set di regole che corrispondono ai principi di diritto amministrativo a quelli del diritto societario privatistico la seconda questione sulla quale volevo richiamare la vostra attenzione perché sta per essere portata anzi è stata già portata in verità all'esame delle sezioni unite con una ordinanza l'ordinanza 9595 di quest'anno della sezione lavoro riguarda appunto i rapporti di lavoro connessi alle società facenti capo alle società a partecipazione pubblica in particolare in quel caso alle aziende municipalizzate perché si tratta di stabilire essendo listate sul punto delle pronunce difformi della stessa sezione lavoro nel tempo si tratta di stabilire se sia soggetto alla disciplina pubblicistica che regolando in modo completo e esauriente l'assunzione del personale a tempo determinato da parte di province comuni consorzi e rispettive aziende esclude che le assunzioni temporanee effettuate da quegli enti possano soggiacere alla disciplina privatistica in base alle quali le assunzioni a tempo determinato potrebbero convertirsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato se la clausola di determinazione del rapporto di lavoro fosse considerata illegittima l'applicazione di questa regola si dubita che possa valere anche per le società partecipate le aziende municipalizzate rispetto alle quali la conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato potrebbe porsi in contrasto con la regola che richiede invece concorso prova pubblica selettiva per l'assunzione da parte della pubblica amministrazione anche qui evidentemente considerare o meno alla stregua della pubblica amministrazione queste aziende municipalizzate implica che si applichi una certa tipologia di norme concernenti il rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato e le varianti connesse rispetto all'altra infine ma vorrei dire not least evidentemente c'è la questione della soggettabilità a fallimento una questione molto importante perché mette evidentemente in campo soprattutto la posizione dei terzi di interessi e la tutela dei terzi essendo il fallimento per definizione strumento più o meno efficace non saprei di tutela dei diritti dei creditori quindi dei terzi che anche le società a partecipazione pubblica ancorché incaricate dello svolgimento di pubblici servizi possano essere assoggettate a fallimento non bastando la loro funzionalizzazione al pubblico servizio a farle qualificare come ente pubblico che altrimenti non sarebbe ovviamente soggetto a fallimento che dicevo anche queste società siano assoggettabili a fallimento è stato affermato ripetutamente con due sentenze della prima sezione civile del 2012 e del 2013 ed è affermazione sulla quale non ho ragione di prevedere la Cassazione e vorrà ritornare a breve aggiungo anche ed è uno spunto che trango proprio dalla sentenza 22.209 del 2013 la quale ha ricordato come il decreto legge 134 del 2008 abbia dettato norme specifiche in tema di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in crisi che operano nel settore dei pubblici servizi essenziali per evitare che essi subiscano interruzioni e però per la stessa norma dettando queste regole per evitare che quei servizi subiscano interruzione non ha escluso anzi ha implicitamente confermato che quelle imprese siano sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria che sembrerebbe confermare sul piano sistematico la soggettabilità a fallimento di questa tipologia di imprese quando di fallimento e non di amministrazione straordinaria si dovesse trattare non costano però e questo è l'interrogativo aperto forse meno facile al quale è meno facile dare risposta non costano però pronunzie né della singola sezione né delle sezioni unite sulla assoggettabilità a fallimento non delle società a partecipazione pubblica o incaricata di pubblici servizi in generale ma delle società in house in particolare perché è chiaro che qui nuovamente il modo in cui si configurano le società in house e l'eventuale affermazione anche in questo campo che esse non costituisca un soggetto autonomo e distinto rispetto alla pubblica amministrazione potrebbe questa volta davvero mettere in discussione la loro assoggettabilità a fallimento ma questo è appunto uno dei problemi aperti sui quali immagino e spero che la discussione che seguirà potrà fornire a tutti noi e me per primo degli importanti elementi di riflessione vi ringrazio grazie al presidente Rordorf per questo quadro che ci ha fatto una ricostruzione anche di consapevolezze dietro al percorso seguito dalla Suprema Corte salutiamo il presidente grazie andiamo avanti e intanto prego i relatori di tenersi e scusatemi non voglio fare la cattiva nei tempi diciamo che ci siamo dati di un quarto d'ora 20 minuti al massimo per ciascun intervento e do la parola a Ginevra Abruzzone che ci fa un quadro un'evoluzione del quadro normativo con particolare riferimento alla legge di stabilità del 2014 e alle recenti direttive appalti prego Ginevra ringrazio gli organizzatori come diceva Fabiana il tema del mio intervento è l'evoluzione del quadro normativo in materia di società pubbliche con particolare riferimento alle implicazioni per le società in house negli ultimi 12 mesi come ormai è prassi da tanti anni gli interventi normativi sono stati molti apparentemente frammentari ci sono state modifiche abrogazioni integrazioni di norme esistenti e se uno si pone in una prospettiva di riflessione sistematica sulla politica legislativa quest'anno però c'è una questione da porsi si riesce a ravvisare una svolta in particolare con la legge di stabilità 2014 da un approccio che in alcuni casi prevedeva dei vincoli rigidi o semi rigidi alla scelta delle amministrazioni riguardo determinate modalità di azione di vieto di servirsi di vieto tendenziale di ricorrere a società strumentali c'è una svolta da un passaggio che prevede in alcuni casi vincoli diretti alla scelta organizzativa in direzione di un approccio che invece è basato esclusivamente o tende a essere basato esclusivamente su criteri di responsabilizzazione sul piano economico finanziario questo secondo me diciamo è il tema più interessante di quest'anno e è un tema interessante anche perché si integra bene con i rapporti tra intervento in materia di società partecipazione pubblica e spending review e si integra bene con il rafforzamento dei controlli degli enti locali che è stato introdotto con il decreto legge 174 del 2012 allora partiamo dalla spending review dobbiamo ricordarci che da subito nel programma di azione per la revisione della spesa 2014-2016 nei lavori coordinati dal commissario straordinario ci si è occupati di società partecipazione pubblica in particolare delle partecipate locali e il mandato della spending review chiede di verificare qual è l'interesse pubblico riguardo le attività svolte dal centro di spesa chiede di chiedersi se alcune attività potrebbero essere svolte dal privato senza svantaggi per la cittadinanza e chiede di vedere se si può riorganizzare la struttura dell'ente di spesa per ridurre i costi di gestione queste sono in generale le questioni che ci si pone all'interno di un esercizio di spending review nelle proposte emerse diciamo dalla prima fase dei lavori sul tema delle partecipate locali vengono individuati degli ambiti in cui si ritiene opportuno intervenire lì elenco soltanto organi societari riduzione del numero delle partecipate aumento dell'efficienza mediante benchmarking attivazione di controlli e ispezioni limiti alle assunzioni e alle spese di personale delle società in house se poi guardiamo quelle del commissario Cottarelli sono proposte se vediamo poi come diventano cosa troviamo poi nelle misure adottate del governo vediamo che nel programma nazionale di riforma quindi negli impegni assunti dal governo nei confronti delle istituzioni europee c'è l'impegno a intervenire sulle numerose partecipate degli enti locali escluse quelle che prestano servizi fondamentali per la collettività per esaminarne attentamente le funzioni con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione delle stesse questo diciamo è lo scenario di politica pubblica all'interno del quale ci stiamo muovendo anche nella recente consultazione sulla riforma della pubblica amministrazione uno dei 44 punti era la riduzione del numero delle aziende municipalizzate allora guardiamo un po' diciamo se questo è il contesto della politica pubblica guardiamo qual è il quadro normativo a Monte secondo me è molto importante ricordarsi le disposizioni del decreto legge 174 2012 che hanno modificato un po' l'impostazione dei controlli degli enti locali in quel decreto si prevede che gli enti locali rispetto alle partecipate debbano fissare chiari obiettivi di gestione qualitativi e quantitativi organizzare un sistema informativo sui profili economici e gestionali effettuare un monitoraggio periodico su come stanno andando le cose dal punto di vista economico gestionale ma anche qualità del servizio alla popolazione rispetto dei vincoli di finanza pubblica e se rilevano degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati adottare prontamente azioni correttive i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato quindi già nel decreto del 2012 abbiamo un'impostazione di responsabilizzazione dell'ente locale sull'andamento delle società partecipate senza distinzioni tra in house e non in house in generale se andiamo a guardare i risultati dell'ultima relazione della corte dei conti sulle società partecipate dagli enti locali che sono usciti sono stati pubblicati all'inizio di giugno vediamo che effettivamente sul profilo della buona gestione delle risorse c'è ancora parecchio da fare i risultati riguardano il 2012 quindi quando non operava ancora il nuovo sistema dei controlli del decreto 174 abbiamo una situazione in cui due terzi degli organismi rilevati che complessivamente sono 7.000 poi la corte dei conti ne analizza meglio 4.000 circa due terzi non prestano servizi pubblici ma svolgono altre attività nel complesso delle partecipate locali gli utili superano le perdite ma se si fa guardare le partecipate al 100% cioè quelle di cui ci stiamo occupando noi in realtà le perdite eccedono in larga misura agli utili di esercizio in più si riscontra una maggiore incidenza del costo del personale rispetto alla media che dice la corte dei conti sembra evidenziare una scarsa efficacia delle politiche di contenimento del costo del lavoro come svolgono il servizio la grandissimissima maggioranza dei casi è tramite un affidamento diretto su 24.000 rapporti 31 rapporti affidati con gara e 300 rapporti affidati diciamo nella forma della società mista quindi dato questo contesto di le partecipate le interamente partecipate delle amministrazioni locali non vanno tanto bene non sembrano controllare bene diciamo il costo del personale è importantissimo che il sistema dei controlli del decreto 174 inizi a operare sapete che c'è un'applicazione graduale ha cominciato a operare dal 2013 per i comuni sopra i 100.000 abitanti nel 2014 dovremmo passare a quelli sopra i 50.000 per poi arrivare al 2015 ai comuni sopra i 15.000 abitanti quindi diciamo dato questo contesto un possibile filo conduttore di questa continua evoluzione della normativa che vediamo sempre come frammentaria è ci si sta sforzando di assicurare una migliore gestione delle risorse pubbliche si incontrano moltissime resistenze soprattutto quando si va a imporre vincoli diretti infatti quando si impongono vincoli diretti troppo forti saltano alla fine vengono rinviate le scadenze vengono rinviate le scadenze poi alla fine la disposizione viene abrogata quindi diciamo serve in qualche modo un votamento di approccio le questioni aperte sono ancora tantissime sembra l'inizio di un percorso ci sono delle domande interessanti se uno guarda diciamo lungo per esempio se si passasse un sistema di vera responsabilizzazione e completa responsabilizzazione si potrebbe a regime superare tutti quei vincoli alle retribuzioni alle modalità organizzative che adesso in un'ottica di breve periodo si è ritenuto opportuno introdurre per evitare abusi dal punto di vista gestionale quindi si potrebbe passare a un sistema in cui anche i vincoli sulle remunerazioni almeno di alcuni soggetti partecipati vengono tolti altra domanda enorme quale sarà l'impatto delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni perché come avremo a vedere con queste direttive è stata introdotta una nozione di relazioni tra enti nel settore pubblico rispetto alle quali non si applicano le regole delle direttive che introduce una nozione di società in house meno restrittiva di quella a cui noi siamo abituati con la partecipazione interamente pubblica e veramente con un'attività prevalente intesa in senso stretto viene in qualche modo allargata la nozione del soggetto che sembra poter avere un affidamento diretto e questo in termini di sistema è un disastro perché diciamo la ricostruzione che riconduceva dal punto di vista giuridico il soggetto è sostanzialmente l'amministrazione più si allentano i requisiti più diventa difficile da sostenere andando proprio per flash un'altra cosa che a mio parere è importante per capire l'evoluzione della legislazione in questo settore è prendere spunto dalle due sentenze della Corte Costituzionale dell'anno scorso la 229 e la 236 che in qualche modo hanno fatto il punto su dove può intervenire il legislatore statale e sintetizzando tremendamente la Corte Costituzionale ha detto quando il legislatore cioè è legittimo l'intervento del legislatore statale quando va a distinguere tra attività amministrativa in forma privatistica e attività di impresa dell'ente pubblico questa non solo è legittima ma anche è ispirata alle stesse idee che ispirano nel diritto europeo la fissazione di alcuni requisiti tecal per gli affidamenti indiretti la razio è quella di evitare distorsioni della concorrenza e indurre il soggetto che svolge attività amministrativa in forma privatistica a occuparsi di servire bene la pubblica amministrazione e a questo ambito di interventi a questo filone la Corte Costituzionale riconduce sia il decreto Bersani che pone i limiti alle società strumentali che non possono servire altri operatori pubblici e privati e riconduce anche le disposizioni della finanziaria del 2008 che sono quelle disposizioni che hanno retto per tutto questo tempo e che dicono le amministrazioni non possono detenere o acquisire partecipazioni non possono costituire società per quelle attività di produzione di beni e servizi che non sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quindi questo è un ambito in cui il legislatore statale può intervenire secondo ambito può intervenire sulle scelte di autonomia organizzativa delle amministrazioni locali la risposta che dà la Corte Costituzionale è solo nella misura in cui la materia rientri nell'ambito dell'ordinamento locale quindi 117,2 lettera P invece una volta che è compiuta la scelta organizzativa dell'amministrazione tutte quelle norme statali sull'organizzazione sulla gestione della società quindi composizione dei consigli di amministrazione rapporto di lavoro forme di responsabilità degli amministratori può intervenire il legislatore statale? La risposta della Corte Costituzionale è sì perché una volta che tu hai scelto di utilizzare uno strumento societario sia pure particolare diciamo il legislatore può intervenire perché comunque materia societaria in fondo è riconducibile al codice civile ergo c'è la competenza del legislatore statale perché è la competenza in materia di ordinamento civile e poi c'è quella competenza residuale che c'è sempre di coordinamento della finanza pubblica in cui il legislatore statale può dare disposizione di principio dare degli obiettivi di contenimento della spesa lasciando un minimo di flessibilità alle amministrazioni locali all'interno di questo quadro quindi con questo quadro di cosa può fare il legislatore statale si inserisce la legge di stabilità 2014 che ha una pars destruens diciamo è una pars costruens la pars destruens detena in estrema sintesi fa saltare cioè abroga alcune disposizioni molto vincolistiche che erano state introdotte tra il 2010 e il 2012 fa saltare quelle disposizioni del decreto legge 78-2010 che ponevano dei limiti numerici alle società partecipate che possono essere detenute da comuni fino a 30.000 abitanti e per 30.000 50.000 abitanti quello salta saltano le disposizioni che chiedevano a tutte le pubbliche amministrazioni non solo locali di superare l'utilizzo delle società strumentali cioè quelle che controllate direttamente che hanno conseguito un fatturato da prestazione in favore della pubblica amministrazione maggiore del 90% del fatturato esclusi servizi di interesse generale queste bisognava superarle salvo dimostrare che non fosse possibile un utile ricorso al mercato le scadenze erano alla fine del 2013 la norma viene abrogata prima di cominciare a mordere la stessa cosa diciamo era una norma importante c'era stato tutto un esercizio di preparazione era coinvolto l'antitrust nell'emanazione di un parere vincolante diciamo il sistema salta era un vincolo diretto salta stessa cosa succede all'articolo 9 meno famoso del decreto legge spending review che sostanzialmente chiedeva a regioni province comuni di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi che esercitano anche in forma strumentale funzioni fondamentali ex articolo 117 comma 2 delle terapie della costituzione o funzioni amministrative aspettanti agli enti locali o comunque in ogni caso riorganizzare questi enti per arrivare a un obiettivo di contenimento degli oneri finanziari fino al 20% anche questa è percepita come troppo diretta troppo vincolistica salta allora a fronte di questo indebolimento dei vincoli che erano stati introdotti qual è la risposta che viene data dal legislatore quali sono le disposizioni che vengono introdotte secondo me è molto interessante sono i commi tra 550 e 568 dell'articolo 1 della legge di stabilità c'è una prima parte che detta una nuova disciplina delle realtà locali che pone regole comuni per aziende speciali istituzioni e società partecipate dalle PA locali in qualche modo diciamo il modo in cui si pone il legislatore è io non intervengo sulla scelta che fai tu decidi di che forma ti vuoi avvalere e la disciplina è comune parlano di società partecipate non di società controllate non escludono i servizi di interesse economico generale quindi una disciplina generale e questa disciplina di responsabilizzazione parte dall'idea che di obblighi di accantonamento per le perdite non ripianate e quindi disincentiva le amministrazioni da detenere partecipazioni in soggetti in perdita o comunque dal non ripianarle e poi pone diciamo delle regole più strette nel caso in cui nei confronti di quei soggetti ci siano affidamenti diretti per una quota maggiore più alta dell'80% del valore della produzione in quel caso quindi se hai un soggetto partecipato hai un affidamento diretto che rappresenta uno più affidamenti diretti che rappresentano più dell'80% del tuo valore della produzione se hai risultati economici negativi che durano nel tempo ci sono conseguenze dirette e vincolanti sulle remunerazioni degli amministratori obbligo di riduzione dopo un certo tempo e esclusi servizi pubblici locali se i risultati economici negativi sono persistenti c'è l'obbligo di porre in liquidazione della società altre cose importanti diciamo sempre della parte costruttiva della legge di stabilità sono le modifiche del decreto legge 112 del 2008 sulla politica del personale sostanzialmente l'idea è per le realtà locali che sono più strettamente integrate nelle pubbliche amministrazioni e quindi aziende speciali istituzioni società controllate titolari di affidamenti diretti oppure che svolgono funzioni di servizio di interesse generale senza carattere industriale o commerciale o funzioni di supporto di natura pubblicistica per tutte quelle si applica la disciplina della pubblica amministrazione sul fronte delle assunzioni sul fronte del continuamento degli oneri contrattuali e così via poi ci sono diciamo sempre un'altra disposizione importante è l'introduzione di vantaggi fiscali in caso di scioglimento o alienazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali quindi una norma di vantaggio rispetto allo scioglimento o all'alienazione delle controllate e poi la resurrezione della legge finanziaria della disposizione della legge finanziaria del 2008 che era sempre stata nell'ordinamento però latente senza vincoli diciamo di attuazione dopo che era scaduto il primo periodo in cui le amministrazioni avrebbero dovuto attuarla quindi l'obbligo di uscire da tutte quelle partecipazioni che non sono strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali viene rimessa in vita per 12 mesi e se per caso le pubbliche amministrazioni non facessero seriamente questa verifica cosa succede c'è una conseguenza automatica se l'alienazione della partecipazione non viene effettuata mediante procedure evidenza pubblica la partecipazione tra 12 mesi anzi meno adesso cessa ogni effetto e la società è tenuta a liquidare in denaro l'ente partecipante diciamo dopo 12 entro 12 mesi quindi quindi sostanzialmente diciamo la cosa interessante della legge di stabilità 2014 è questo non soffermarsi tanto sulla tipologia del soggetto cercando di limitare il ricorso a una forma diciamo organizzativa ma quello di intervenire sulle conseguenze dal punto di vista diciamo economico e di rivitalizzare questa norma che chiede di rivedere tutte le partecipazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sia centrali che locali ecco e quindi sembrerebbe un percorso verso letto insieme al decreto legge del 2012 un percorso verso la responsabilizzazione da parte degli enti locali sull'assetto delle loro partecipate e comprese le società in house cosa succede con le direttive europee con le direttive europee si cambia il quadro perché sostanzialmente c'è questa nozione di rapporti quindi appalti o concessioni traenti nell'ambito del settore pubblico in cui a livello normativo ci si discosta dalla posizione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sui requisiti per l'affidamento diretto perché sostanzialmente si dice per la parte prevalente dell'attività la direttiva ritiene sufficiente che il soggetto giudicatario svolga oltre l'80% della sua attività nei confronti dell'amministrazione c'è l'avvocato generale Mengozi che nella sua opinione su una sentenza della Corte di Giustizia dice osserva ma questo è un grosso scostamento il 20% dell'attività svolta nei confronti di altri soggetti non è una parte irrilevante dell'attività è un quinto dell'attività il secondo scostamento importante è con riferimento al controllo analogo la direttiva consente forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità ai trattati che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata quindi il requisito dell'intera proprietà pubblica viene in qualche modo attenuato le questioni grosse a livello interpretativo che dobbiamo affrontare ponendoci nell'ottica del ricevimento delle direttive che deve avvenire entro due anni la prima è queste nuove definizioni della direttiva che portata hanno è semplicemente dire a queste relazioni non si applicano le disposizioni della direttiva ma comunque rimane impregiudicata l'applicazione dei principi del trattato e quindi comunque la vecchia nozione diciamo dell'in house rimane in vita o con le direttive viene superato l'approccio della giurisprudenza questa è la prima questione la seconda questione che tipo di interpretazione dare sicuramente essendo un'eccezione deve essere un'interpretazione restrittiva e l'ultima questione è cosa opportuno che faccia il legislatore italiano in sede di ricepimento perché dal punto di vista teorico noi se guardiamo anche l'orientamento della corte costituzionale nella sentenza 325 del 2010 siamo liberi di adottare un approccio più pro concorrenziale rispetto a quello indicato dalle direttive quindi potremmo volendo mantenere il nostro requisito della proprietà interamente pubblica sicuramente verrà sollevata l'obiezione di se gli altri stati hanno le mani libere perché noi dobbiamo vincolarcele noi potremmo dire perché noi abbiamo particolarmente bisogno di vincolarcele però diciamo è una scelta che sarà delicata e le implicazioni in termini di sistema sono immense grazie a Ginevra Bruzzone in questo quadro completo e aggiornato e do la parola a Carlo Iba società in house nozione e rilevanza applicativa quindi ci devi parlare di tutto quindi ho circa tre quarti d'ora di tempo un quarto d'ora grazie ma la mia idea sulla nozione di in house è abbastanza dissonante almeno da alcune cose rispetto a alcune cose che sono state espresse in precedenza del resto se vengo invitato è per esprimere il punto di vista del privatista e quindi devo tenere fede al mio compito se no non mi invitano più in particolare vorrei soffermarmi su quell'aspetto dell'in house che è il controllo analogo naturalmente non ho il tempo di ripercorrere la giurisprudenza della corte di giustizia perché appunto è all'azione della corte di giustizia che si deve la la definizione della fattispecie dell'in house in tutti i suoi aspetti incluso quello del controllo analogo non ho il tempo però vorrei sottolineare almeno alcuni punti e cioè senz'altro è vero quello che ricordava il consigliere Garofoli e cioè che in una prima fase della giurisprudenza della corte di giustizia ci si è come dire attestati su una nozione molto forte di controllo analogo ritenendo in sostanza che possa parlarsi di controllo analogo solo se gli amministratori della società in house non conservano praticamente nessun autonomo potere gestionale questo lo si riscontra non tanto nella sentenza Tecal che si limita a dire che il controllo analogo deve essere qualcosa di più del controllo societario normale però non dice che cos'è quel qualcosa in più ma lo si nota soprattutto nella sentenza mi pare Parkin-Brixen del 2005 e in Carbo-Termo del 2006 successivamente però alcune altre decisioni a partire dalla sentenza Setco del 2009 poi successive altre hanno nettamente modificato la nozione di controllo analogo ritenuta rilevante in particolare la sentenza Setco intanto ha ammesso con chiarezza la possibilità del controllo analogo congiunto cioè ripartito fra più soci pubblici e ha precisato che questo controllo analogo deve esprimersi e può esprimersi attraverso la partecipazione a organi collegiali che quindi deliberano a maggioranza in cui quindi la posizione dell'ente pubblico marginale rischia di restare tale appunto e dice in cosa consiste il controllo analogo consiste nella possibilità di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti quindi possibilità di influire sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti che è cosa diversa dal controllo stringente che ha il superiore sul dipendente quindi non è il rapporto gerarchico esteso a ogni singola decisione gestori a quale forse poteva intendersi secondo le precedenti decisioni della Corte di Giustizia quindi in sostanza qual è allora quel quid pluris che il controllo analogo deve avere rispetto al normale controllo discendente dall'esercizio dei diritti di socio a dir il vero la Corte di Giustizia rispetto al controllo analogo individuale non lo dice mai con chiarezza però lo ha detto ripeto a partire dal 2009 in alcune pronunce rispetto al controllo analogo congiunto dove ripeto ha individuato l'essenza del controllo analogo nella possibilità di incidere sulla direzione strategica e sulle decisioni importanti o significative poi naturalmente sono formule che andrebbero riempite di contenuto però sicuramente significa che gli amministratori non sono semplicemente esecutori di ordini che vengono dall'ente pubblico socio e se questo è stato detto per il controllo analogo congiunto mi sembra ragionevole ritenere come ha concluso per esempio Mario Libertini dopo aver fatto un'analisi di critica molto buona di questa giurisprudenza mi sembra condivisibile concludere che quel che vale per il controllo analogo congiunto valga anche per il controllo analogo individuale quindi controllo analogo come possibilità di incidere sulle decisioni fondamentali della società diciamo così e questa che sia questa la nozione di controllo analogo con cui dobbiamo fare i conti lo si ricava anche dalla direttiva sugli appalti pubblici del 2014 che è stata poc'anzi ricordata perché lì c'è stato appunto lì il controllo analogo l'inaus è inteso in senso allargato sotto diversi profili ma mi soffermo anche qui solo sul controllo analogo si dice espressamente che si ritiene che l'amministrazione giudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato eccetera eccetera qualora eserciti un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata e poi si aggiunge che è ammesso anche il controllo analogo indiretto ossia effettuato per il tramite di un'altra persona giuridica controllata allo stesso modo se questa è quindi la nozione di controllo analogo con la quale dobbiamo fare i conti passerei ora a esaminare un altro versante quello del diritto interno cioè quali sono gli strumenti giuridici che possiamo utilizzare nel nostro ordinamento per realizzare situazioni di controllo analogo così intenso trago spunto anche qui della sentenza SETCO che è abbastanza interessante lì il caso specifico che riguardava una società italiana era quello di un controllo analogo appunto ripartito fra più enti locali i quali in base a precise norme statutarie partecipavano a dei comitati c'era un comitato unitario e diversi comitati tecnici che deliberavano la maggioranza e che potevano impartire istruzioni direttive eccetera agli organi sociali assemblea e amministratori una clausola molto interessante secondo me è quella è la clausola statutaria secondo cui in sostanza la il compimento di operazioni da parte degli amministratori in assenza delle autorizzazioni dell'assemblea o dei comitati prescritte dallo statuto o in deformità da queste indicazioni sarebbe stato configurato come giusta causa di revoca quindi se gli amministratori non fanno quello che gli viene detto di fare o fanno qualcosa di diverso possono essere revocati per giusta causa mi sembra una indicazione significativa perché a mio avviso questo significa che questi comitati cui partecipano i rappresentanti di varienti locali e che per statuto sono configurati come degli organi sociali aggiuntivi aggiuntivi e sovraordinati rispetto ad assemblea e consiglio di amministrazione sono sì organi statutari le cui delibere tuttavia mi pare di poter dire non hanno rilevanza esterna nel senso che se si dice che l'inosservanza delle prescrizioni di questi comitati può costituire giusta a causa il revoca degli amministratori mi pare si dia per scontato che quel che hanno fatto gli amministratori in difformità resti fermo cioè non c'è una prestizione statutaria che pretenda di dire se gli amministratori si discostano ciò che fanno è illegittimo quindi non c'è rilevanza verso i terzi a mio avviso dell'inosservanza di queste prescrizioni l'altro aspetto interessante di quel caso è questo che in presenza di queste previsioni statutarie il giudice del rinvio che era il Tar Lombardia osserva come si legge nella sentenza che queste prescrizioni statutarie ad avviso del giudice di rinvio appunto dice parrebbero assimilabili a patti parasociali cioè il giudice di rinvio mi pare di capire si pone il problema ma delle prescrizioni di questo tipo che configurano organi sociali atipici cioè non previsti al diritto societario eccetera eccetera ma sono ammissibili verosimilmente risponde di no e quindi degrada l'efficacia di queste clausole da quella di clausole statutarie con efficacia esterna che poi ripeto secondo me l'efficacia esterna non ce l'avevano comunque degrada l'efficacia a quella di mere pattuzioni parasociali quindi interroga la corte di giustizia ma siamo sicuri che un controllo analogo così realizzato sia conforme ai principi comunitari la corte di giustizia su questo è molto lapidaria ma questa lapidarietà mi pare anche qui assai significativa perché la risposta è si tratta di una questione interpretativa delle norme nazionali la cui soluzione incombe al giudice del rinvio cioè in sostanza su quali siano gli strumenti effettivamente utilizzabili alla luce del diritto interno la corte risponde appunto la risposta dipende dal diritto nazionale non dalla giurisprudenza comunitaria che se ne lava le mani ma se ne lava le mani scusate non per un atteggiamento pilatesco ma perché semplicemente prende atto del fatto che il diritto europeo non impone agli ordinamenti nazionali di adeguare il proprio diritto societario per far sì che si possa realizzare il controllo analogo all'interno di qualunque tipo di società nessuna prescrizione comunitaria richiede questo e nessuna norma di diritto interno a prescindere da un'imposizione comunitaria che ripeto non c'è consente di derogare a norme imperative del diritto societario che sia dell'SPA o dell'SRL per realizzare il controllo analogo viceversa è qui che la mia opinione è dissonante rispetto a quella di buona parte della giurisprudenza amministrativa la giurisprudenza amministrativa mi pare dia per scontato che di fronte all'esigenza di assicurare il controllo analogo le norme imperative del diritto societario cedono automaticamente è una soluzione che ripeto non mi pare abbia nessun fondamento normativo e non ce l'ha in particolare alla luce della giurisprudenza della corte di giustizia è vero secondo me esattamente l'inverso le clausole statutarie finalizzate ad assicurare il controllo analogo esattamente come qualunque altra clausola statutaria saranno legittime se conformi al diritto societario è illegittime in caso contrario e in quest'ultimo caso sarà illegittimo l'affidamento diretto che sia stato concesso nel presupposto della validità di quelle clausole il punto quindi secondo me non è stabilire se possa prevedersi nello statuto o in un altro documento come credo sia successo in alcuni casi che il segretario comunale impartisca ordini agli amministratori ordini di servizio il punto è stabilire se quegli ordini di servizio sono vincolanti per gli amministratori e secondo me per quanto ho detto finora non lo sono vincolanti gli amministratori tanto per fare un esempio non potrebbero esonerarsi da responsabilità verso i creditori sociali adducendo di aver eseguito un ordine di servizio dell'ente locale socio-controllante né possono incorrere in responsabilità a contrario per non aver eseguito l'ordine di servizio tutto questo lo si può riassumere se si vuole dicendo che le società in house non sono società di diritto speciale almeno fino a che un intervenga una norma che sottragga questa o quella società in house al diritto comune e questa devo dire è una impostazione che non è soltanto mia o di alcuni gius commercialisti ma è anche ha anche una sua diffusione nella letteratura amministrativistica penso a Marcello Clarici penso a un libro di Ursi sulle società di evidenza pubblica in cui questa impostazione è analiticamente condivisa per cui se non sono società di diritto speciale e dobbiamo muoverci nell'ambito del diritto comune allora rapidissimamente posso dire che se parliamo di una SRL non è così difficile configurare il controllo analogo rispettando il codice civile si possono attribuire al socio pubblico diritti particolari inerenti all'amministrazione o si può statutariamente devolvere alla collettività dei soci pubblici la maggior parte o le decisioni significative inerenti alla gestione se invece ci troviamo ad avere a che fare con una società per azione il discorso mi pare completamente diverso perché ci sono almeno due normi imperative che precludono la realizzazione di un controllo analogo anche nei termini in cui l'ho recepito io dalla Corte di Giustizia nei termini quindi un po' meno rigidi di quelli accolti dal Consiglio di Stato perché c'è l'articolo 2380 bis secondo cui la competenza per la gestione spetta esclusivamente agli amministratori e c'è l'articolo 2449 secondo cui gli amministratori di nomina pubblica hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi di quelli espressione dell'assemblea quindi in una società per azioni l'unica cosa che potrebbe farsi statutariamente è prescrivere la necessità di autorizzazione dell'assemblea su determinate operazioni nei limiti consentiti dal numero 5 dell'articolo 2364 mentre certamente secondo me sarebbe illegittima la previsione di poteri assembleari di indirizzo di autorizzazione o tantomeno di poteri gerarchici come sicuramente è illegittima la previsione di organi statutari atipici che abbiano compiti che vanno al di là di funzioni consultive o istruttori eccetera e comunque sarebbe illegittima a mio avviso qualunque clausola che in qualunque modo sottraesse o pretendesse di sottrarre agli amministratori il potere di gestione non fosse altro che in quanto gli amministratori non possono comunque sottrarsi da responsabilità per la gestione nei confronti dei terzi conseguentemente in una società per azioni resta solo la possibilità a mio avviso di affidare a pattuizioni parasociali la configurazione del controllo analogo e qui si aprirebbe un discorso che non ho il tempo di fare passo qualche minuto credo di averlo ancora a svolgere ma rapidissimamente la seconda parte del mio intervento fin qui ho parlato più o meno della nozione di controllo analogo e della sua compatibilità o no con il nostro diritto societario due parole adesso sulla rilevanza applicativa della fattispecie dell'in-house sappiamo la fattispecie l'in-house nasce per individuare le condizioni in presenza delle quali una pubblica amministrazione può affidare un determinato compito senza gara quindi affidamento diretto allora chiediamoci oltre a questa che è la sua rilevanza la ragione per cui è nata la figura dell'in-house l'in-house può avere rilevanza anche ad altri fini e rapidamente esamino il problema sotto i due profili che sono stati ricordati in particolare dal presidente Rordoff cioè l'eventuale rilevanza dell'in-house in ordine alla ripartizione al riparto di giurisdizione sulle azioni di responsabilità e la stessa rilevanza in ordine alla soggezione a procedure concorsuali per annuncio subito ma penso si sia intuito che io risponderò negativamente su entrambi i punti cioè io ritengo che non vi siano ragioni per differenziare il trattamento delle società in house rispetto a quello delle altre società a partecipazione pubblica o privata né sotto il primo né sotto il secondo profilo primo profilo responsabilità giurisdizione ed obbligo il riferimento alla notissima sentenza che è stata ricordata del novembre scorso delle sessioni unite che poi è stata seguita da alcune decisioni conformi ora io ho già commentato criticamente la sentenza e non mi ripeterò certo qui però almeno in due parole dico che cos'è che io non condivido e che io rimprovero per cose tra virgolette alle sezioni unite ma in primo luogo non condivido il fatto che sia stata accolta una nozione di in house estrema perché come è stato ricordato si ipotizza che vi sia una vera e propria subordinazione degli amministratori rispetto all'ente pubblico partecipante un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale dissenso la lettura che do io della giurisprudenza della corte di giustizia è ora rafforzata dalla direttiva sugli appalti pubblici è diversa da questa seconda cosa che non condivido è che le sezioni unite implicitamente mi pare di ricordare che non vorrei sbagliare che la sentenza riguardasse una società per azioni però potrei sbagliarmi se riguardava una società per azioni la pronuncia implicitamente ritiene legittimo un assetto statutario che configuri gli amministratori alla stregua tra virgolette di dipendenti dell'ente pubblico socio il che significa muovere dal presupposto secondo cui nel conflitto fra clausole strumentali al controllo analogo e diritto societario debba accedere il diritto societario io invece penso che debbano accedere le clausole strumentali al controllo analogo in terzo luogo rimprovo alla sezione unite di essere approdati appunto come è stato ricordato a negare la personalità giuridica alla società in house configurandola come mero patrimonio separato di pertinenza della pubblica amministrazione socia che è una configurazione già abbastanza discutibile in linea generale ma secondo me che sia insostenibile lo si coglie come dire rapportando questa configurazione all'ipotesi del controllo analogo congiunto perché nel caso del controllo analogo congiunto riesce addirittura difficile concepire come possa aversi una pluralità di patrimoni separati di pertinenza dei vari enti locali soci e come poi possa arrivarsi a imputare i vari atti e i vari effetti che sono compiuti tutti in nome della società in house ora a questo ora a quell'altro patrimonio separato mi pare davvero che sia difficile risolvere questo problema e credo quindi che non vi siano ragioni per differenziare il regime delle società in house da quello delle altre società pubbliche ai fini del riparto di giurisdizione e lo stesso ritengo a proposito del problema del fallimento come ha ricordato il presidente Rordorf la Cassazione ha già nel 2012 e poi nel settembre 2013 diciamo chiarito secondo me molto bene che le società a partecipazione pubblica in genere sono soggette alle procedure concorsuali e ha così secondo me spero almeno messo a tacere alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali soprattutto dalla giurisprudenza di merito che è tentato di sostenere il contrario però il discorso appunto potrebbe riaprirsi proprio per le società in house e proprio quale effetto e se vogliamo un effetto collaterale della sentenza del novembre scorso delle sezioni unite e quindi dico due parole su questo perché ho due parole due minuti per due parole perché la sentenza del novembre scorso potrebbe riaprire il discorso perché è chiaro che se noi diciamo che la società in house non è una persona giuridica autonoma ma fa parte è un'articolazione interna della pubblica amministrazione e social allora dovrebbe essere si può dire esonerata al fallimento in quanto ente pubblico o comunque per la sua natura pubblicistica io ho detto che non condivido la premessa ma prescindo da questo per ora e osservo che in ogni caso e del resto anche nella motivazione delle sezioni unite c'è un passaggio che circoscrive la portata della sua ricostruzione la concezione delle sezioni unite diciamo della immedesimazione fra società in house e ente pubblico socio non è detto che si estenda al di là dello specifico problema per il quale è stata elaborata cioè quella nozione serve in quella pronuncia per risolvere il problema del riparto di giurisdizione ma non è detto che debba valere ad ogni altro effetto come del resto alcuni tribunali in sede fallimentare hanno correttamente inteso perché ci sono alcune in particolare il tribunale Modena il tribunale l'altro Verona forse precisano che anche a tener fermo l'orientamento delle sezioni unite quello vale riguardo al riparto di giurisdizione ma non implica un annullamento completo della alterità giuridica fra società in house e ente pubblico socio e anche in pronuncia della magistratura contabile questo profilo è messo molto bene in evidenza mi riferisco in particolare a una pronuncia della Corte dei Conti in Regione Lombardia del 2009 dove si legge che se per il diritto amministrativo e comunitario l'ente pubblico socio e la società in house possono essere visti sostanzialmente come un solo soggetto pur configurandosi dal punto di vista civilistico come due persone giudiche distinte tuttavia tra virgolette la natura del rapporto funzionale della società in house con l'ente proprietario non si riflette nei rapporti con i terzi né sulla disciplina applicabile all'organizzazione societaria che rimane quella ordinaria quindi diciamo così l'annullamento della terzietà che la Sezione Unite hanno ipotizzato rispetto al problema del riparto di giurisdizione non è detto che valga ad altri fini in particolare ai fini del fallimento tanto più se ci pensiamo che le società in house come ogni altra società sono iscritte al registro delle imprese sono iscritte come società cioè dichiarano ai terzi la loro natura quindi anche i creditori sociali e quindi fanno nascere un legittimo affidamento di essere sottoposte alla disciplina societaria alla disciplina dell'impresa comune un ultimo aspetto e concludo se si guarda la giurisprudenza di merito sul problema del fallimento delle società a partecipazione pubblica ci si accorge che soprattutto quando si è iniziato a vedere che la Cassazione a partire dal 2012 era contraria all'esonero allora alcuni giudici di merito hanno un po' corretto il tiro cioè giudici di merito che intendevano invece arrivare alla soluzione dell'esonero hanno escluso la soluzione al fallimento perché perché non hanno ravvisato la qualità di imprenditore nella società quindi hanno negato che la società esercitasse effettivamente un'attività imprenditoriale e fra l'altro lo hanno fatto un po' strumentalmente secondo me utilizzando gli stessi indici sintomatici che solitamente venivano utilizzati per sostenere la natura pubblica stavolta sono stati utilizzati per sostenere la mancanza dell'impresa allora su questo io dico questo concordo è certamente esatto che il presupposto soggettivo per l'assoggettamento alle procedure concorsuali è la qualifica di imprenditore anche se non dobbiamo dimenticarci che riguardo alle società un orientamento consolidato nella corte di Cassazione ritiene che riguardo alle società si prescinda dall'effettiva verifica dell'esercizio dell'impresa perché la società acquisterebbe la qualità di imprenditore per effetto della sua costituzione qualora ciò sia dichiarato nell'oggetto sociale statutario ma anche a prescindere da questo riferendomi ai cosiddetti indici sintomatici in base ai quali qualche tribunale di merito ha ritenuto di non dichiarare il fallimento mi pare si possa precisare che affinché si possa ravvisare l'impresa la fattispecie dell'impresa non occorre lo scopo lucrativo non occorre che la società operi o l'imprenditore o chiunque gli sia operi in un regime concorrenziale è pacifico che anche il monopolista è un imprenditore non occorre secondo almeno una parte per me condivisibile della dottrina la destinazione a terzi dei beni o dei servizi prodotti che talvolta potrebbe essere adotta per escludere l'imprenditorialità proprio delle società in house ma a questo riguardo osservo ancora questo intanto che ai fini dell'in house è richiesta la destinazione prevalente e non esclusiva dell'attività verso l'amministrazione pubblica in secondo luogo quando si discute di questo requisito della destinazione prevalente si allude al rapporto convenzionale di affidamento cioè occorre che la maggior parte dell'attività la direttiva dice l'80% sia svolta in adempimento di compiti posti dall'amministrazione ma questi compiti possono ben consistere nell'espletamento di prestazioni verso terzi come spessissimo accade nel campo dei servizi pubblici e anche con remunerazione da parte dei terzi quindi non è che si può dire che la società opera solo con l'amministrazione quindi è scorretto argomentare la non fallibilità dalla mancanza di questi requisiti così come con riferimento alle società in house sarebbe scorretto argomentare la natura non imprenditoriale quindi la non fallibilità dalla sottoposizione al controllo analogo perché ma nessuno dubita che siano imprese ad esempio le società sottoposte a direzione e coordinamento e nessuno quindi dovrebbe dubitare che lo siano anche quelle sottoposte a controllo analogo del resto nel dibattito stranoto sull'imprenditore occulto è sempre stato pacifico che fosse imprenditore il soggetto palese cioè colui che era etero diretto come è etero diretta la società in house concludo perché vedo che l'amica Fabiana giustamente scalpita allora concludo dicendo questo è chiaro che la corte di Cassazione in particolare le sezioni unite non possono cambiare orientamento per così dire ad ogni stormir di fronda però nel caso nostro mi sembra che si registri una importante innovazione normativa successiva rispetto alla decisione del novembre scorso che è appunto la già più volte ricordata direttiva sugli appalti pubblici che ha codificato una nozione di in house sensibilmente diversa e certamente più soft e quindi più allargata di quella posta alla base della decisione del novembre scorso quindi dove si parla di semplice influenza determinante sugli obiettivi strategici eccetera e quindi a mio avviso alla luce di questa direttiva non è spagliato sperare che l'indirizzo inaugurato nel novembre scorso possa essere rimeditato grazie a Carlo Iva